Scusi un po' la mia faccia, però è molto presto, sono alle 8.00-10.00 Solitamente io a quest'ora mi piace sempre girarmi e rigirarmi nel mio letto Non vi dico, non chiedi, direi troppo Vediamo che il vetro è sempre un po' così appannato, come mai Luca? Eh, è sempre un po' appannato il vetro, è vero? Eh, Claudio di solito di notte va in giro e mattina presto è tutto ghiacciato Eh, capitano queste cose